Senza stipendio dal 2012, una disperazione lunga 48 mesi per gli ex lavoratori del lato Messina 2 di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono in tutto 54. Dietro di loro altrettante famiglie in difficoltà. Vivere, anzi sopravvivere senza stipendio, specialmente alla luce dell'attuale crisi economica diffusa, è davvero impresa ardua. Hanno provato a fare sentire nuovamente la loro voce, ottenendo un confronto con il presidente della regione Rosario Crocetta, che si trovava in visita a Messina. Lo hanno incontrato alla prefettura, ad accompagnare i lavoratori il deputato regionale Nino Germanà. Le proteste dei lavoratori sono cessate dopo l'incontro con il governatore Crocetta, il quale si è messo in contatto con il dirigente del Dipartimento per i Rifiuti, affinché possa essere avviato un percorso che conduca dritti al pagamento dei salari, fino a questo momento non riconosciuti, e ai quali i 54 lavoratori hanno pieno diritto. Un percorso che passa dalla nomina di un commissario ad acta. Gli ex dipendenti del lato Messina 2 hanno incontrato anche il vice prefetto Maio, che dal canto suo ha garantito un pronto intervento da parte della prefettura affinché si possa risolvere al più presto la spiacevole situazione dei lavoratori, che ormai da quattro anni sperano di vedersi riconosciuti i loro sacrosanti diritti.